Vuoi acquistare dei giochi a prezzi bassissimi? Passo nel link in descrizione Ciao a tutti Salmoni e bentornati sul mio canale Oggi siamo su Train Station Renovation e siamo su Curl C Niente ragazzi, vi auguro una buona visione Allora ragazzi, qui c'è un piccolo bug Ovvero l'acqua che dovrebbe esserci non c'è Non chiedetemi il perché Però è così Dovrebbe esserci ma non c'è Quindi io piazzo la pompa comunque Svuoto a prescindere perché l'acqua, ripeto Dovrebbe esserci ma non c'è Però, ok Comunque bisogna farlo Vedete? L'abbiamo fatto subito Grande Adoro il bug Allora, qua non c'è tutta questa immondizia da portare via Quindi Ci dovremmo comprare sicuramente un secchio Beh, un secchio Un Avete capito, no? Un container Per sta roba Ah ma anche questo posso distruggerlo, non lo sapevo Grande Allora, ragazzi, ripulisco un po' Ci vediamo Non appena avrò finito E comincieremo a pezzare un po' di roba Ragazzi, voglio provare l'idropolitrice Ah no, devo verniciare Quindi aerografo Ah, proveremo questo, l'aerografo No, vabbè, regà È una figata pazzesca Ci metti una cavolata a fare una roba È bellissimo Guarda 3 secondi hai fatto Che figata pazzesca Allora, qui piazzeremo questo Poi questo Qui Oh, vicino all'ingresso Poi le panchine Facciamo una qui E un'altra qui Poi qui 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 E qui E poi Tipo qui E qui Perfetto Ancora con i cassonetti Quindi il cassonetto qui Il Bietteria automatica Qua Ecco fatto Ecco fatto Poi Dobbiamo pensare anche a questa Non ci dimentichiamo Perfetto Perfetto Dai, altrimenti ho fatto Grande Distributore di alimenti Quindi 6 E il numero 7 Che è questo qui La mettiamo tipo qui Perfetto Qua abbiamo fatto Ragazzi Eccoci qui Allora Risolviamo un po' di problemi A livello di Immondizia E poi Rimettiamo tutto a posto Ovviamente Sfondiamo le panchine Che ne sono pure un bel po' Rispetto al solito E questa ambientazione Sembra più Primo mattino Quindi lo stiamo facendo Di prima mattinata Tipo verso le 6 Del mattino Una cosa del genere Giuro che se il cane dei vicini Non lo smetti di abbaiare Rilancio una pallina Con dei Una pallina di carne Con dei lassativi Bene Ora Manca solo pulire Quindi Ci vediamo A cose fatte Ah ragazzi C'è una cosa Che vi voglio far vedere Guardate Ci sono delle barche In mezzo ai binari Perché ci fu un allegamento Vedete In un Inondazione Credo E ha Tirato fuori Ste barche Ok gente Ci siamo Ci siamo Mancano solamente Piazzare Un paio di cose Io Il cestino Lo piazzerei Tipo qui Uno Un altro Tipo qui Un altro Qui 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 E qui Ce ne andrebbe Uno anche qua sopra Perché qua sopra Ci sono un po' di sporco Niente di che Ok Panchine Dunque Vogliono la bellezza Di 18 panchine Mamma mia Vediamo E sono 10 Poi Eh però Devono essere In quest'altro senso Effettivamente Effettivamente Dobbiamo metterne qualcuno Per in quest'altro senso No Quindi andiamo Molto veloci Molto sbrigativi Bene Ehm B3 Automatiche Ne vuole due Quindi come sempre Una Qui Appena si arriva La si trova Bene E un'altra Da quest'altro lato Cosa in realtà Potrebbe essere Più utile così Ok Speriamo che non Faccio laggare di nuovo Tutto quanto L'acqua Perché sennò Diventa un casino Bene E riprezzerei anche Due orologi In questa direzione Qui E' uno più basso Perché di qua E' più basso Perfetto Qua abbiamo fatto tutto Ora manca tutta Con la parte di là Compresi i binari Quindi Faccio un attimo I binari Con la Smerigliatrice Ok ragazzi Ci siamo Cominciamo Col demolire Alcune cose Allora Qui non c'è da Demolire niente Sì Mi sono pure Impaurito Non me l'aspettavo Ok Questa Sicuramente Queste Vanno via Niente Alcune cose Sono buone Ragazzi Quindi Io faccio Con calma E ci vediamo Ah ma c'è pure qua Da fare cose qua Mamma mia Allora Un cassonetto Io metterei qui E per ora Basta Poi Vediamo queste Ovvero le 14 panchine Che mi chiedono Ok Poi 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 Qualcuno Di qua Che Sennò Ovviamente Ah Non lo posso Fare Adesso Per forza Di qua Minchia Dove Piazzato tutte le panchine Piazziamo Anche un tabellone Di partenza Qui E una biglietteria Automatica Qui Che la metto Qua Poi Andiamo A mettere La biglietteria E tutto il resto Di là Tavellone Delle partenze Qui Cestino Di rifiuti Qui La biglietteria Automatica Qui L'orologio Che mi sono Dimenticato Qui Così c'è Gli orari E partenze Direttamente Qui In modo Che lo possono Vedere tutti E qui Sempre sotto Ok Perfetto Ora Manca l'ultimo Binario Credo Che sarebbe Questo qui Allora ragazzi Uno Due Tre E un'altra Che ne sono Appianto Qua Manca comunque Un altro cassonetto Lo metto qui So che non è proprio estetico Però Niente Qua manca Un distributore automatico E ce l'abbiamo Perfetto Poi Un bel cestino Lo piazziamo Qua sotto Poi Qui ci piazziamo Una panchina E una decorazione A fianco Perfetto Anche qui L'abbiamo fatto Ora Qui Dunque C'è Distruggere qualcosa Sì Perfetto Vediamo un po' Se c'è altro A poter distruggere Qui No Decorazioni E anche qui Abbiamo fatto Poi qua Dobbiamo smontare Questi E bisogna Metterci Della roba Qui Ora Gua Qua 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 però vuole panchine e sedie vabbè andate pensiamo i due mobili allora due mobili e questi fatti due sedie di ufficio apparecchiature elettroniche 1 e 2 e una decorazione fatto anche questo quindi ora manca solo qui esatto distributare gli elementi ce l'ho andiamo subito a pizzare perfetto l'orologio ce l'abbiamo poi decorazione ce la mettiamo qui e ci mettiamo anche un bel cestino qui è una bella panchina che non guasta qua ragazzi l'abbiamo completato al 96% però non sono riuscito a trovare le altre cose da fare quindi boh chissà comunque ci abbiamo messo 48 minuti una cinquantina di minuti a farlo quindi gg e ragazzi siamo arrivati quasi alla fine perché dopo car si tocca oakatown anzi oakatown scusate e limingham ci siamo quasi per finire sto gioco so che ci stiamo mettendo parecchio tempo però mi sto impegnando al massimo per farvelo uscire e per farvelo godere al massimo niente io vi ringrazio per aver visto il video mi raccomando lasciate un bel pollicione in su iscrivetevi al canale se non vedo ancora fatto seguitemi sui social comunque dove vi pare e seguite anche le mie live su twitch bella prossimo video ciao